Galleria Materia di Roma diversifica molto questo approccio con una pratica molto sperimentale che ha come core, come base la geologia e quindi è un lavoro sul paesaggio ma è un paesaggio stratificato che poi parte dal paesaggio più tradizionale che è ovviamente scattato in banco ottico a tutta una parte un po' più diversificata di sperimentazione in casa con degli esperimenti che poi si traducono e dialogano con il paesaggio stesso.